Musica Vi faccio un esempio per capirci bene. Tra 3.000 anni questa società sarà scomparsa e sarà stata dimenticata. Gli uomini del futuro faranno scavi archeologici per scoprire cosa c'era nell'antico passato e scaveranno, guarda caso, sopra il Vaticano. Scavano, scavano, scavano e trovano due libri. Il Vangelo è un libro di storia. Ci abbiamo trovato, quindi c'è stata una civiltà che scriveva, che aveva una religione. E' bello. E leggono il Vangelo, che riescono a decifrarlo. E leggono di sto Gesù, un essere bellissimo che accusava i potenti, che parlava d'amore, che faceva i miracoli, guariva i malati. Ma meraviglioso sto Gesù, favoloso, bellissimo. Che fortunati che sono stati questi popoli, ma perché si sono distrutti? Perché se è venuto uno così, sicuramente tutto il mondo lo avrà seguito. Uno che ha manifestato i poteri divini così palesi, in maniera così eclatante, addirittura risuscitava i morti. E poi aprono il libro di storia e questi cambiano faccia, perché nel nome di Gesù furono per cinque secoli sterminati tutti gli infedeli. e nel nome di Gesù furono conquistate le Americhe e nel nome di Dio furono ammazzati quelli della Francia, come si chiamano, i Templari e poi i Catari, volevo dire. Allora, questi storici archeologi diranno, ma sto Gesù era proprio un figlio di buona donna, si è presentato tutto buono e guarda dopo che è combinato. Questo è successo nella Bibbia. Non era Gesù quello che è sterminato la gente. Sono stati gli uomini che, appropriandosi del bollino cicchita chiamato Gesù, hanno compiuto le peggiori nefandezze, ma per i loro tornaconti personali. Ma come fa l'archeologo tra tremila anni a capire questo? Gesù sta di qua, Gesù sta di là, incrocia i dati e dice che questo era un delinquente. E' venuto, si è fatto accettare e poi si è fatto i suoi porci comodi, scannando e sterminando, più non posso, per conquistare. Bell'esempio di testa di Bip, sto Gesù. Ma buttiamolo, meno male che non l'abbia. Ecco perché quella civiltà si è distrutta, perché con un delinquente così non poteva non distruggersi. Ecco perché la Bibbia, l'Antico Testamento non viene compreso, perché il popolo di Israele fa un sacco di cazzate e i preti di allora cosa scrivono? Che era Dio che glielo diceva. Ah, me l'ha detto Dio. Non dicono adesso... Dio è con noi, l'Isis, i nazisti, Gott mit uns, non dicevano così i nazisti, Dio è con noi. Magari addio con noi, a quello con le corna però. Ecco perché anche i poveri traduttori in lingua antica non ci capiscono, non ammazza e scrivono un sacco di stupidaggini perché non hanno la scienza teologica che gli permetta di comprendere questo tipo di discorso. Perché se Dio dice non uccidere, dopo non ti può dire uccidi. O se te lo dice, ci deve essere un motivo che va capito. Perché è anche vero che Dio può uccidere. Beh, l'ha fatto. Sodoma e Gomorra, diluvio universale e così via. Quindi Dio va capito. Perché anche Dio non è un credo. Dio è un essere. Non va studiato con il credo Dio. Dio va studiato con la scienza. Perché se fosse vero che Dio ci ha creato, che cioè lo zio buono che dentro il robottino di carne ci ha messo l'elettricità, va compreso come cacchio ha fatto. Perché se ci ha messo l'elettricità non è un fatto religioso, è un fatto scientifico. Giusto? Se io sono corpo e sono scienza, perché sono misurabile, pesabile, eccetera, e se io sono spirito, intelligenza e sono dentro la scienza, anch'io sono scienza. Quindi se Dio è quello che ha messo l'elettricità, anche lui è scienza. Quindi va compreso attraverso la scienza adeguata. Perché Dio esiste. E se Dio esiste, non è una roba da poco, amici, perché se ci entriamo in termini concreti, Dio è peggio di Superman. Superman vola, ha i raggi infuocati dagli occhi, è invulnerabile, ma Dio è peggio. Dio è più potente, anzi Dio è talmente potente che ha potere assoluto su tutto. Se lui decide una cosa, nessuno gli può dire di no. Ci ha provato il povero Lucifero, vedete bene come gli è andato a finire. E cento milioni di anni in catene. Ti hai sbagliato, ma paghi, non per l'eternità, e anche quella è un'altra schifosa menzogna. Non c'è la pena eterna. C'è la legge eterna che sanziona l'errore, ma l'errore, la pena per l'errore, non è eterna. scontata la tua pena, poi esci dal carcere e ricominci la tua vita normale. vale. grazie. grazie a tutti.